Cari amici di Ischia Reporter, ben trovati con l'appuntamento ormai consueto. Ischia per le missioni, sapete che abbiamo spesso affrontato il tema a noi carissimo del Burkina Faso, lo facciamo con due protagonisti delle missioni del Burkina Faso, due sacerdoti, due Burkina Bè, due amici dell'isola di Ischia e dell'Italia che qui operano anche in chiave pastorale perché si trovano spesso a svolgere la loro missione qui in Europa e in Italia in particolare. Ne abbiamo bisogno, vista la scarsità di vocazioni nel nostro occidente. Ma, come dicevo, vogliamo parlare insieme a loro, che sono protagonisti in prima linea di questa azione a difesa della persona, indipendentemente dal loro credo religioso, e lo fanno con grande competenza, grazie all'aiuto di molti di voi, grazie all'aiuto di quelli che verranno dopo. cercheremo anche di stimolare la vostra generosità, la vostra partecipazione, che è il modo migliore anche per testimoniare, al di là di tutte le chiacchiere che sentiamo in televisione, sui giornali, legate a che modo poter aiutare quelli più in difficoltà, ecco, il modo migliore è sentire dalla voce dei protagonisti che cosa voi potete fare, che cosa noi possiamo fare, e nei vari campi di azione, che sono sconfinati perché c'è bisogno di molte cose, purtroppo ci sono popoli non così fortunati, non così baciati dalla provvidenza come noi, però, ecco, con grande ottimismo, con grande tenacia, piano piano anche da quelle parti può arrivare quel giusto livello di benessere per assicurare il rispetto innanzitutto della dignità delle persone, per assicurare quei livelli di istruzione, di sanità, di vivibilità, che noi diamo per scontate, che purtroppo, come dicevo, in larga parte dell'Africa, purtroppo tutto questo è ancora di là da venire. Ne parliamo con il nostro amico Don Loran. Ciao, benvenuto, bentrovato. Ciao. Tra le altre cose, scusami, devo precisare che lui è un giornalista, direttore di Radio Maria nel Burkina Faso, che è presente qui in Spesso Ais, che si occupa in particolare di bambini, di formazione, di evangelizzazione, e poi di tante altre cose. Come ha detto Luciano, sono direttore di Radio Maria in Burkina Faso, a CUPELA, e vi saluto e vi ringrazio già per tutto quello che fate per il nostro paese e per tutti i bambini che ci sono. Dall'altra parte invece abbiamo Edgar, Don Edgar, che è un altro nostro amico che conosce bene l'Italia, è l'italiano per mia fortuna, perché sarebbe per noi impossibile dialogare con lui. Si occupa in particolare delle questioni sanitarie. Ecco, grazie per aver accolto il nostro invito a questa chiacchierata. C'è tanto lavoro anche per te lì nel Burkina e so che sei molto impegnato su campi molto delicati. Sì, infatti per me è la prima volta che vengo a Ischia e sono un sacerdote religioso camigliano e come tu hai detto noi lavoriamo nel campo della salute, io lavoro proprio nella formazione, la formazione di coloro che toccano i malati. Noi abbiamo avuto il grande piacere di ospitare in una nostra puntata il grande fratello De Luise, Vincenzo Luise, che è stato per tanti anni lì nel Burkina, ci ha raccontato anche le sue difficoltà, ma soprattutto ci ha trasmesso questo amore per il Burkina ed era evidente nel suo sguardo, nei suoi occhi, la nostalgia per il Burkina che lui definisce ancora oggi il suo paradiso, perché per lui stare a contatto con le persone più bisognose di quella parte povera dell'Africa era stare a contatto con Gesù e con Maria, quindi niente di più bello che avere la testimonianza di un camigliano come te che ha avuto la possibilità di sperimentare questo amore di tanti che sono partiti lasciando tutto per venire da voi e cercare di essere operativi. Tu dicevi che ti occupi nel campo sanitario, in particolare ci sono alcune emergenze ancora oggi legate alla diffusione della lebra, dell'AIDS, di tante malattie che purtroppo sono ancora molto diffuse e continuano a diffondersi anche a causa di alcune mancanze, carenze come per esempio l'acqua. Che cosa si può fare per ovviare o per provare a mettere mano a questi problemi? Devo dire prima che da noi quando qualcuno è malato si può andare all'ospedale, ci sono bravi medici, infermieri, ma il problema principale sono le medicine. I malati devono comprare tutto fino ai guanti dei medici. Allora capite che per i poveri il primo problema è poter comprare medici. Un altro problema come hai detto tu è il cibo, il mangiare. La prima medicina è il mangiare. Qualcuno che non mangia bene, che volete? Non può essere in buona salute. Per dire che tutto questo è legato. La terza cosa è legata anche all'istruzione perché alcune malattie sono dovute al fatto che la gente purtroppo non hanno fatto la scuola. allora l'igiene minimale non lo sanno. Allora dire che questi tre problemi sono legati in medicina, l'igiene e anche il cibo. Si parlava di istruzione, quindi l'importanza di assicurare a questi bambini che sono poi le generazioni che rappresentano il futuro del Burkina Faso quei livelli di conoscenza in grado di assicurare loro quella capacità di evitare certe dinamiche e soprattutto di contribuire alla crescita reale del loro paese. Voi su questo state lavorando tantissimo anche attraverso le adozioni a distanza e colgo l'occasione per salutare l'amico Luciano Giusepponi che qui a Ischia veramente sta lavorando si può dire notte e giorno per garantire innanzitutto la conoscenza perché non tutti conoscono questi problemi non tutti hanno la giusta sensibilità per affrontare l'istruzione le adozioni a distanza la scuola su questo tu stai lavorando molto dai la possibilità anche agli altri che non sanno di capire meglio qual è il vostro raggio d'azione veramente l'istruzione è una cosa importante come ha detto il padre prima molti sono malati perché non sanno prendere cura di loro stessi ecco quando abbiamo voluto trovare che cosa possiamo fare insieme per aiutare ho pensato all'educazione e così abbiamo iniziato con qualche bambino adesso siamo attorno a 50 o un po' di più adottati a distanza con Luciano Giusepponi come abbiamo detto e lavoriamo a aiutare questi bimbi ad andare a scuola a poter vestirsi a poter avere qualcosa da mangiare e così si aiuta a formarsi alla vita in generale perché quando non c'è questa base di educazione tutti crollano dopo purtroppo non tutti i bambini hanno questa fortuna di andare a scuola o di rimanere a scuola perché una cosa è di andare a scuola iniziare a studiare e poter rimanere per questo c'è un aiuto grande di poter aiutare questi i genitori come i bambini a ottobre l'inizio della scuola molti genitori vengono sempre a chiedere aiuto e quando abbiamo qualcuno che può dare qualcosa per mantenere questi bambini è tutta la nazione che si edifica attraverso un bambino che va a scuola importante e per altre cose dopo